Andiamo subito a salutare Furio Focolari, buongiorno Furio Buongiorno ragazzi, che disastro, si pensava potessimo parlare di calcio oggi, viste le partite importanti di ieri Però subito Furio, tanto ne parliamo dopo le 9 e mezza, allora, favorevole, contrario perché sì perché no alla Superlega, così come annunciata Assolutamente contrario, per tanti motivi, ne posso citare dieci, poi ne parleremo dopo, quindi assolutamente contrario Non vedo un motivo favorevole, neanche uno Stefano Agresti, buongiorno Ciao, buongiorno a tutti, no è una cosa folle dai, è una cosa senza senso secondo me È una cosa senza senso che non tiene conto di niente, della storia, della bellezza dello sport, della competizione, dei meriti sportivi È una cosa che mi fa abbastanza schifo, ti dico la verità Toni Damasciali, buongiorno, la tua posizione Buon lunedì, buon lunedì Totalmente favorevole Perché? Perché la Superleague va a sostituire la Champions League attuale E salutiamo il bomber, Roberto Pruzzo Sì sì, anch'io, buongiorno, io sono dell'idea di Toni Bisogna andare in questa direzione Assolutamente, perché altrimenti il calcio diventa una cosa che già la guardano in pochi Fra un po' non la guarda più nessuno E io vi do solo un dato ragazzi Tra i ragazzi, perché hanno fatto una indagine molto seria Tra i ragazzi tra 16 e 25 anni Solo 40% Vede il calcio Ma non lo vede 90 minuti Ma solo attraverso gli highlights Solo 13% dei ragazzi tra 16 e 25 anni guardano le partite dal primo al novantesimo minuto Quindi quando parlate avete presente questa cosa E cosa diventerà il calcio se qualcosa non cambierà? Ne vedranno ancora meno ora, no? E' certo che è facile Ma io non credo La mia idea Ma è inutile che ci azzuffiamo I ragazzi guardano le cose Scusate, scusate, apriamo un dibattito sul nulla Non abbiamo controprove di nulla Quindi apriamo un dibattito secondo me No, abbiamo le controprove Abbiamo le controprove Abbiamo le idee No, abbiamo le controprove Furio A parte le idee che quelle ce le teniamo Abbiamo le controprove Perché le partite di cartello, come diciamo noi Richiamano sponsor, diritti televisivi, pubblico Attenzione Le partite, tra virgolette, di margine Non hanno lo stesso richiamo Allora io voglio capire i perché, i perché sì e i perché no Un attimo, no? Focolari e agresti sono nettamente no E Bomber e Damascelli nettamente sì E anche Gelco è nettamente sì Allora E tu? Non fare democristiano No, ma io devo capirci un po' di più Io devo capirci un po' di più Però io vorrei sempre che fosse il merito Cioè questa storia che ci sono 15 società blindate I fondatori che praticamente non si scalfiscono mai È più facile far fuori l'Atalanta a prescindere che batterla sul campo E che è bravo Ma questo è un discorso demagogico Questo è un discorso demagogico Perché quando è incominciata Che basta le abbiamo a scorsa La Coppa dei Campioni Ma scusa ma ragazzi Allora come è incominciata la Coppa dei Campioni? Quante squadre erano iscritte? Ma chi vinceva il campionato faceva la Coppa dei Campioni Quante squadre erano iscritte? 16 16 squadre erano iscritte Ditemi quante squadre sono iscritte oggi Secondo voi per motivi democratici? Ma no, ma quante diventeranno? Non perché Non per grazia divina Le prime Ma quale è grazia divina? Ma quello è grazia divina? Ma si chiama Inter? Ma Stefano Parli di Merito E se la fanno da soli la Superlega Che diventa una leghetta Se senza il Bayern Monaco Se senza il Paris Saint Germain Se senza l'Atalanta Se senza le Romane I motivi? I motivi è che il calcio Non può pensare solo ai soldi Se i signori Florentino Perez E la Porta pagano 550 milioni l'anno Un calciatore Sono cavoli loro Anche l'Atalanta La Lazio La Roma Il Napoli Hanno diritto a giocare Una competizione Se ci arrivano per meriti E' inutile che stiamo a dibattere Ogni giorno noi qui Ma la Lazio ce la farà Ma la Roma vincerà E che lo facciamo a fare? Che la vince a fare la Roma La Supercoppa O la Lazio arriva a guarda Che ci arriva a fare? Se tanto il signor Florentino Perez Col suo Lachè Agnelli Ha già deciso tutto Che ci arriviamo a fare? Bene Allora sentiamo adesso Toni Damascelli Toni Dunque Quando tu parli di leghetta Ritengo che quella Degli ultimi vent'anni Trent'anni Quarant'anni Si è diventata una leghetta Alla quale partecipano tutti Non più col criterio Della Coppa dei Campioni Oggi il mercato Ti chiede Credito Ti chiede di portare Negli stadi Quando sarà possibile Pubblico Ti chiede di avere I diritti televisivi In linea Con quello che ti garantisce La storia di un club L'Atalanta La Lazio La Roma E le altre squadre Potranno partecipare Ad altri tornei Organizzati dall'UEFA La Super League È un'altra cosa È un'altra cosa Oggi La Coppa UEFA L'Europa League Rispetto alla Coppa UEFA E la quale Rispetto alla Coppa Delle Fiere Ha trasformato Il mercato Il mercato Dei tornei europei Gli stessi mondiali Rispetto alla formula iniziale Si sono trasformati Ma voi credete Per motivi democratici? Per motivi di coinvolgimento Di tutte le nazioni O ci siano altri motivi Giustamente Mercantili Oltre che mercantili Ed elettorali Per portare a casa I voti necessari Per l'elezione Assolutamente La Super League Così come verrebbe concepita Ma non ne conosciamo Nei dettagli Solo A livello di struttura Nei dettagli Perché poi c'è un piccolo particolare Dovranno avere i loro arbitri Finisco Per quanto riguarda Le minacce dell'UEFA Mi fanno ridere Perché A parte i debiti Che ha l'UEFA Insieme con la FIFA Tutti e due hanno debiti Con un organico Euforico Soltanto l'UEFA 550 dipendenze Vabbè Ma chiuso la parentesi Voi credete Che l'UEFA Possa impedire Ai club O alle federazioni Di prendere i giocatori Di questi club Andiamo a giocare Gli europei O andiamo a giocare Le qualificazioni mondiali In Qatar Senza i giocatori Di Inter Milan Juventus Manchester City Manchester United Arsenal Tottenham Barcellona Real Madrid Pensate davvero Che Che Cesarin Abbia questo potere Certo che no Allora Sentiamo adesso Le motivazioni Di Stefano Agresti Perché Contrario Innanzitutto E' cominciata E' cominciata La Juventus E' cominciata la Juventus No Quindi non ti dovi arrabbiare Se oggi parliamo Della Juventus Perché Secondo me L'imputato numero uno In Italia E' proprio il signor Agnelli E' la tua Juventus La mia Beh vabbè Allora Aspetta 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 No 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 Non è giusto Non dobbiamo fare Mamolette Ragione Agresti Per Vinci Ebbene Non dobbiamo fare Le mamolette Adesso Che come Lo fa la Juventus Però La tua posizione E' la tua posizione A furio Non è Non è la posizione Di Tony Non mi agitare Se no Dico ai miei padroni Di chiamarti Dico ai miei padroni La Juventus Di chiamarti Non mi agitare Allora Allora Rispettiamo Rispettiamo Il pensiero Di ciascuno Di voi Di noi Allora Aspetta Bomber Dobbiamo sentire Agresti E poi arriviamo Da te Vai Stefano Mi scuso Con Stefano No Io dico Non è che volevo Interromperti Per quello No Io dico Io dico che I debiti Come dicevo prima Secondo aspetto Io credo Che oltre a essere Un progetto Egoistico Perché guarda Le proprie tasche E questo L'ha detto Furio prima E io non Mi ripeto E condivido tutto Quello che io dico È che è anche Un progetto Stupido Perché pensano Pensano Secondo me Sbagliando In modo clamoroso Che Una partita Tra Juventus E Arsenal Il 22 di febbraio Con la Juventus Sesta Nel campionato Di Europa League L'Artenal 9 Valga più Di Fiorentina Juventus Di Napoli Juventus Di Juventus Adalanta Ma anche Di Juventus Ma chi la guarda E' buon per farmi parlare Però Ma chi la guarda Juventus Cioè Juventus Arsenal Il calcio Vive di sentimenti Di passione Di rivalità storiche Loro vogliono Ispirarsi Alla NBA Ma vive L'NBA Sta in America È un altro mondo Un'altra cultura Sportiva Non c'è merito Non ci sono Le socessioni Non c'è tutto questo Nella NBA Il calciatore La squadra Che arriva ultima Alla Alla L'anno successivo Scegne il giovane Migliore Per metterlo In organico Questo è l'NBA È una cultura Differente Invece La squadra Che arriva ultima La vogliono Sportare Vogliono prendere A modello La NBA E lo sport americano E fanno esattamente Il contrario Senza tenere conto Ti ripeto Che loro credono E voi siete convinti Evidentemente Tony E Roberto Genco Che Juventus Tottenham Sia un qualcosa Che ha grande fascino Ma non ha nessun fascino Se lo giochi Tutte le settimane Qual è la rivalità Tra il tifoso Della Juventus E quella del Tottenham Qual è? Bene Allora Se il Juventus Tottenham ha fascino Se è un quarto di finale Di Champions League Dove sei arrivato Dove sei arrivato Sputando sangue Non se lo giochi Tutte le domeniche Che fascino ha Bene Allora sentiamo Ok sentiamo Sentiamo Roberto Pruzzo Vai Pruzzo Però Stefano Bisogna anche dire Che adesso Quando fanno i gironi Di Champions League È una cosa Che non te le ricordi Neanche più Noi aspettiamo Adesso di vedere La semifinale La finale Abbiamo visto Bayer Monaco Paris Saint-Germain E dici Madonna Questa partita Ce la ricorderemo Ce la ricorderemo Per tutto l'anno Perché questa è la verità Il calcio non lo vede più nessuno C'è un decadimento Quasi totale Io ho fatto la Coppa dei Campioni A mio tempo E c'erano 16 squadre Ho fatto l'Europe Ce ne erano 8 Ma tu non l'avresti mai fatta Con questo criterio Però Roberto Sì Non l'avresti mai fatta Perché giocavi nella Roma Anzi nella Rometta O nella Lazietta O nella Tavadina Non l'avresti mai giocata Quella Coppa dei Campioni Furio Furio Forse così è un'esagerazione Per un verso Però quello che sta succedendo Adesso Ecco prendiamo l'Arsenal E' nona nel campionato inglese Ma come si Ma chi cazzo è l'Arsenal E' nona E fa la due riga Lì poi quando Gekko Si dice che si dividono Quanto Gekko Ogni società No Una Tantum Prendono 3 miliardi e mezzo Subito Una Tantum Subito Di che stiamo parlando Sì Stiamo parlando di un business Io aspetta Io credo di aver capito male Però questi 3 miliardi e mezzo Sono da dividere I giocatori li vanno a comprare Come una volta Forse Cerchiamo di capire Beh ma anche se Sarebbero 175 milioni Non sarebbe così tanto No perché No perché sarebbe una cosa Completamente diversa Comunque Approfondiamolo questo Il fatturato sarebbe 10 miliardi all'anno 3,5 da distribuire Ai club fondatori Premi annuali Da 55 a 250 milioni Per il club Tornando alla NBA Che giustamente Chiamava in causa Stefano All'NBA Si possono addirittura Vendere il titolo Lo sapete questo? Lo sapete che oggi Detroit decide Di non partecipare più E vende il titolo A mil vuoi Oppure Oppure Los Angeles Che ha due squadre No? I Clipper E i Lakers Decide Che non lo fa più Una non lo fa più E diventa Beh Nets Nets sono passati Da New Jersey A Brooklyn No ma non succederà questo Però ragazzi Dobbiamo anche capire Una cosa Che Però faccela capire Dai Questa competizione E a parte I campionati rimangono La Champions League Che farà l'UEFA Rimane Loro hanno deciso Di fare una competizione Nuova No ma l'UEFA Dice un'altra cosa Certo Dice se fate questa competizione Non partecipare Ma loro sono il calcio Ma l'UEFA Senza Real Madrid Senza Barcellona Senza Inter Juve Le squadre londinesi Di Manchester Cos'è l'UEFA Davanti a queste squadre Niente Ma la Juventus L'Inter E il Milan Senza Senza la Roma La Lazio Il Napoli E l'Atalanta Cosa sono? Ma loro troveranno le altre Perché sono loro Perché un tifoso Della Juve Guarda la Juve Se ne frega Della squadra avversaria Non è vero Non è vero Il tifoso della Juve Il tifoso No ma il tifoso della Juve Guarda la Juve Se la Juve gli da Gli trasmette passione E la passione si trasmette Quando tu devi anche soffrire Per raggiungere Ma il campionato rimane Voi parlate come se Il campionato Non si giocherà Il campionato si giocherà Ma la nazionale italiana Esclude la Juventus L'Inter E il Milan Voi siete veramente Voi credete Che questo sia possibile Magari fra dieci giorni Sarà di nuovo diverso Oggi siamo ad una situazione Tra l'altro L'UEFA è spalleggiata Da molte federazioni E dal governo inglese E dal governo inglese E beh Figuriamoci Che I Boris Johnson Eh vabbè Allora Hai vinto Gerco Ma io che te devo No ma ragazzi Ma è successo già Con l'Eurolega Nel basket Nel senso che Anche lì erano Contrari alle federazioni Anche lì La FIBA Minacciava le squalifiche Tutto il resto E alla fine E non solo Perché l'Eurolega Ha permesso Io oggi sono A fare l'uomo di parte Guarda di parte Mi schiero Chiedo rispetto Soprattutto per la Roma E per la Lazio Eh beh Ma giocheranno Per la Roma E per la Lazio Ma che Per quale motivo Non sono calpestati I diritti Della Roma E della Lazio Che sono società Che hanno oltre 100 anni Di vita Ma quali diritti Furio Ma quali diritti Se i privati Decidono di organizzare Un loro torneo Se lo andassero a fare Per cazzi loro Eh ma lo fanno Per i cavoli loro Essere escludi da tutto I signori Agnelli Eccetera Devono essere Escludi da tutto Ma non puoi escludere Perché la Juve L'Inter Ma chi ha detto Che non posso La Juve L'Inter E il Milan Rappresentano Ma furio Giocappolino tuo E io non te faccio Fa quell'altro Ma la Juve La Juve Violenza Se questo è un atto Di violenza Si risponde In modo duro Non è che uno Può essere servo Sempre di tutto Se loro vogliono Farsi un campionato Lo fanno C'è una caratteristica Comune di quelli Che stanno organizzando Giacomo Questo lo dobbiamo dire Però io vorrei Che ripartecipasse pure Tony Non è che Tony Deve stare lì zitto Cioè La caratteristica Eh no vabbè Adoniamo Dai Ci sono le mie scuse Per Tony Dai Non ci tratta di scuse No Tu hai detto giustamente Che fai la guerra E vai la guerra E vai la guerra Le devi accettare Siamo tutti un po' nervosi Questa cosa A me mi manda in bestia Però Ti chiedo scusa Ma io ti lascio Ma io ti lascio Le tue opinioni Ma poiché la radio È un buon veicolo È un buon veicolo Il messaggio È stato recapitato Sulla linea Dell'utente desiderato Dai Ti prego Tony Allora però comunque No C'è una caratteristica Comune di questi club Sono i club Più indebitati del mondo E questo lo dobbiamo dire Allora Sai qual è Lo stato più indebitato Del mondo Ilario Sai qual è Il stato Il più indebitato Del mondo Gli Stati Uniti No Gli Stati Uniti Gli Stati Uniti Devono più di 20 mila miliardi Più di 20 mila miliardi Più di 20 mila miliardi Hai solo mila euro Perché le banche Danno i soldi ai ricchi Perché i ricchi riescono a produrre i soldi Nonostante i debiti E per questo il povero Cristo Quando va in banca Pur avendo i conti tutti in regola Però percepisce solo mila euro al mese Nessuno gli dà il mutuo Uno che è in debito per miliardi Però produce miliardi Gli danno tutti il credito Tutti Tutte le banche Allora Tony Dai Un tuo pensiero No Non ho nulla da aggiungere veramente Il mio pensiero L'ho espresso E si faranno la loro superlina Ho aggiunto un piccolo dettaglio Che dovranno avere i loro arbitri Ma le minacce dell'Uefa Sono minacce Io l'ho scritto stamattina Sono palle svizzere Guardate i conti dell'Uefa Guardate la loro organizzazione Guardate la FIFA La loro organizzazione Loro hanno i loro tornei I loro tornei Non i nostri tornei Tony però devi ammettere Che sono i loro tornei Da sempre Se l'Italia è diventata campione del mondo Mai come negli ultimi vent'anni Ma no Mai come negli ultimi Però nel 1934 Quando l'Italia è diventata campione del mondo Era la FIFA che l'organizzava Ma certo E il banco di via A Los Angeles Stava finale Italia-Brasile Ma certo Ma anche l'Unità Anche l'Unità Era un grande giornale Quando lo leggevamo Da bambini Da giovani Dopodiché Si è indebitata Di 90 milioni di euro Chi li ha pagati? Lo Stato Ma io però credo Io credo Adesso non ho calcoli sotto mano Ma sono quasi sicuro Che non dico una sciocchezza Che queste 12 società Per adesso Che stanno lì Insieme Fanno più debito Di tutte le altre messe insieme No Fanno più di un miliardo di tifosi Un miliardo di tifosi Ma il problema è un altro Secondo me è un problema che viene sottovalutato E che si ritiene Che i tifosi Che i tifosi Ci mettano passione e soldi A prescindere dall'evento Io credo che L'idea Ti ripeto L'idea Che L'evento Limitato a questi club Sia Un evento Affettibile Per forza Io credo Che sia un'idea sbagliata È un'idea sbagliata Perché si sottovaluta Quella che è la storia del calcio Cioè la storia del calcio Vive di altre cose Ma la storia del calcio Continua Stefano Ma forse voi non avventi Ma la storia del calcio Continua Quando è andato La coppa dei campioni Sono andato a vedere l'equipe L'archivio Quando è nata la coppa dei campioni Venne definita Un torneo di elite Perché Alla coppa dei campioni Partecipavano solo alcune squadre E le altre erano escluse Allora oggi Mi spiegate perché D'estate Vengono organizzati Tornei in Cina In America A Trieste E a questi tornei Non partecipa Il Pinerolo L'Avellino Il Codroico Ma partecipano Soltanto i grandi club Come mai secondo voi? Che sono Non ho mai visto I tifosi spellarsi Per andare a vedere No ma io ti chiedo Come mai organizzano questi tornei Io non ti ho chiesto un'altra cosa Come mai organizzano i tornei estivi? Queste cose permettono di fare soldi Ma queste Infatti sono tornei di esibizione Ma per fare soldi Cosa significa? Scusa Per fare soldi Cosa vuol dire? Fare soldi vuol dire Che tu hai della gente Che è interessata Hai della gente Che è interessata Sono risposta Ma dimmi No ma no Ma perché li portano in mercati Dove di solito Non vedono questi eventi Ma scusami Ma loro vogliono Proprio quei mercati Non è che fanno Organizzano con Tele Lombardia O con GRGTR Il torneo Ma è giusto Ma è giusto Che loro vogliono Vogliono andare a giocare in Cina E negli Stati Uniti È giusto che vanno a giocare In Cina negli Stati Uniti E che non giochino più Contro la Roma La Laccia Il Napoli Ma loro giocano Loro giocano Il loro torneo Come accade d'estate I campionati rimangono Ragazzi I campionati rimangono Voglio giocare Il trofeo team Io il trofeo team Io sono l'avellino E voglio giocare Il trofeo team Perché non gioco? Ma il trofeo team Infatti Non è niente più Perché Perché per esempio Ecco Abbiamo la Coppa Italia Ragazzi Ma ecco Per esempio La Federazione Italiana Che ha organizzato La Coppa Italia In modo che Le squadre di Serie A Le prime dieci Le prime otto Non partecipano Fino agli otta Ma scusami Scusami A parte che stai Dicendo una cosa Che per principio Già è sbagliata Perché lì Già c'è un E quale merito Ma dovrebbero Però nella Coppa Italia Dovrebbero essere Tutti uguali Perché la Coppa Italia Non è Serie A Ma è Coppa Italia Dovrebbe essere Sorteggio Democratico Ma anche qui Ma non è È democratico Anche qui Ha ragionato Perché le prime otto Fanno la testa di serie No ma entrano Ma decido di classificare Fra le prime otto Ma entrano Però ragazzi Ma sono Ecco Ma sono privilegiate Anche quelle Sono privilegiate Perché sono Le più blasonate Un sacco Di sciocchette Stamattina Se l'Inter Arriva a nona Non salta i primiturni Salta i primiturni Perché arriva Nelle prime otto È meritocratico Ma lo sport È partecipazione Ragazzi Ma vi rendete conto Che alle Olimpiadi Partecipa Pure Alle Olimpiadi Invernali Partecipa la Giamaica Lo sapete questo Lo sport È partecipazione È una frase Molto Però Però A chi venderesti La gara di sci Con un giamaicano Furio A chi lo venderesti Furio Furio La sport È partecipazione È una bellissima frase Che mi fa Tornare in mente È la verità È la verità Ora Il problema è Mardo Che lo sport Professionistico Lo sport Professionistico Ha Una dimensione Totalmente Diverso Dallo sport Sociale Che è Come dici tu Giustamente Partecipazione Di questo Si deve occupare Il CONI E di questo Si deve occupare La fede del calcio Le leghe Le leghe Professioniste Si occupano Di un altro Settore È come dire Che la Lazio La Juventus Il Milan E l'Inter Si devono occupare Dello sport Dei bambini Se ne possono Anche occupare Ma quello è Un dovere Sociale Dello Stato Però posso Dici una cosa Però Devo rispondere a Tony Aspetta un attimo Però Questa cosa qui È come quando Da ragazzini C'era quello Che diceva Gioca chi dico io Perché il pallone È mio Il pallone È il mio Tu fai una Superlega E decidi tu Quali sono le squadre Però Il pallone È mio È mio È mio Però Furio Se io ieri Ti batto Di scavalco In classifica Chi se ne frega Il pallone è mio Tu non giochi Però Quello scarso Andava in porta Furio Quello scarso Andava in porta Perché Inevitabilmente C'è la selezione E qui adesso È una questione Di soldi Perché non è Non è più Ma la selezione Non è meritocratica Perché l'Arsenal Non lo meriterebbe L'Arsenal Da sono 5 anni Che non arriva A fare prima 4 Ma la selezione È capito Però siccome È una società Che c'ha soldi E partecipa 3 italiane 3 3 E 6 inglesi E 6 inglesi E come mai Secondo Tu che conosci Per soldi Per soldi Eh beh certo Per soldi E per cos'altro Tu che conosci Il mondo del marketing Nello specifico Differenza mia Perché secondo te 6 inglesi 3 spagnoli E 3 italiani Qual è il mercato A livello di comunicazione Di lingua mondiale Perfetto Quindi è solo Una questione Di soldi Hai ragione Perché È solo Una questione Di soldi Scusami Visto che Proprio Resto nel tuo settore Oltre quello Giornalistico Perché le squadre Di calcio Rispetto ai nostri Dei tempi Hanno un nome Sulla Sulla maglietta Come mai Secondo te Come mai Perché Hanno bisogno Di soldi Perché i bambini Non hanno un nome Sulla maglietta Perché giocano A pallone Ma chi ha bisogno Di soldi Vende la maglietta Allora Allora Noi dobbiamo Renderci conto Che stiamo andando In contro Poi ci sono I personaggi negativi Ci sono I criminali Ci sono I lupi Ci sono Coloro che Approfittano E speculano E questi Vanno individuati E messi da parte Però Io ritengo Che il futuro Sia questo Sia sicuramente Questo La coppa Dei campioni Come concepita Dall'UEFA Oggi E' un torneo Come ha ricordato Roberto Che nella fase iniziale Interessa Sette persone Nella fase finale Interessa Sette più dieci O ce lo dobbiamo negare Lo dobbiamo negare Questo Quello che io Contesto Che io Credo Che non sia questo Il modo per Io credo che questo Sia un modo per Mettere in discussione Proprio tutto quello Che invece Rappresenta Il patrimonio Del calcio Cioè Si vuole Spolpare Si vuole Spolpare Il tifoso A tutti i livelli Io credo che Il tifoso Che non ha nessun obbligo Di essere tifoso Il tifoso Non ha nessun obbligo Di essere tifoso Ci mette i soldi Ci mette i soldi Per gli abbonamenti Televisivi Per i biglietti Dello stadio Speriamo il prima possibile Se Vive un'emozione Ma se un'emozione La vive In questo modo Alla fine Smette di essere Un'emozione E' questo Secondo me Che non capiscono Cioè Questo Cioè Il tifoso Della Juve Dopo due anni Che gioca Contro l'Arsenal A mio avviso Non prova oggi Le stesse sensazioni Che prova Giocando Continuando a giocare La soddisfazione Di battere E il Torino E il Napoli E la Roma Continuerà a battere Continuerà a battere O a perdere Ma no Ma come no Ma cosa dici no Ma perché dici no Trent'anni fa Il Torino 50 anni fa Il Torino Delle varie federazioni Compresa la Liga Ecco Sì Allora L'UEFA Allora Ricominciamo da capo Ricominciamo da capo L'UEFA è l'Unione Europea Delle associazioni calcistiche All'UEFA Dall'UEFA dipendono Le federazioni Le leghe Sono staccate In alcuni casi Vedi l'Inghilterra Con la Premier League Dalla federazione Questa è L'Atlante Poi se vogliamo fare Un altro tipo di discorso Facciamolo pure Non so Oggi Oggi Fino a prova contraria Che può essere anche domani Ma per oggi La Premier League Non ho detto la federazione La federazione invece Italiana a gioco calcio La Liga spagnola I tedeschi Il governo inglese Sono tutti concordi Nel dire Volete fare la checa Ve la fate Siete esclusi del resto Se dovesse succedere questo Ma che resti del campionato fanno Non solo Ma non solo Vediamo Vediamo Che campionato E che campionato italiano Sarebbe senza Le tre del nord Chi lo guarderebbe Scusami Ma che stai a parlare Giacomo Ma tu sei fuori di testa Lo capisci Beh sono fuori di testa Per un dato di fatto Che cazzo mi dici Che il campionato Con la Roma e la Lazio Non lo guarda nessuno Beh senza la Juve Ma in Italia Scusami Giacomo Mettiamo che questa Mettiamo che questa Superlega funzioni E che riescano effettivamente A produrre così tanti soldi Cosa La quale io ho qualche dubbio Ma detto questo Che non conto nulla Sicuramente Cioè noi arriviamo noi Diciamo che Che non prendono soldi Io prendiamo noi Io penso Io penso Che tutti i soldi Vediamo Vediamo Loro magari hanno ragione Però Ti rendi conto Che i campionati nazionali Sono morti Perché se loro Vintattano Tutto questo denaro È chiaro che E poi lo distribuiscono Ma Stefano Loro comprano Dei giocatori Aiutano Come Ma come no Non diciamo cose Secondo te Scusami Fammi parlare Secondo te Fanno tutto Mettome in piedi Tutto questo circo E poi danno i soldi Alla Roma Alla Lazio Alla Napoli Alla Cosinone Ma cosa dici Che sono già Già ora Impallidiscono All'idea Di dover Dare 3 euro Alla Serie B E allora Cosa per esempio Dovrebbe dire Il Brasile In questo senso Il Brasile Cosa dovrebbe dire Che Ma aspetta Non mischiamo le carte Ma come mischiamo le carte È la stessa cosa Perché da Brasile Cosa Brasile e Argentina Dovrebbero dire Che da anni Da decenni Sono saccheggiati Dalle squadre europee Di 3 o 4 campionati Cosa dovrebbero dire Ma qui Ma il Brasile Fa il suo campionato Eh ma così faranno Beh ma così faranno Anche gli altri Il loro campionato Tranquillamente Tu qui stai dicendo Che Juve Milano Inter Arricchite Tra arricchite Dalla Dall'Euro Dalla Superliga Sì Competono Con le squadre italiane Che non hanno Che ovviamente Hanno Un centesimo Del loro denaro Dov'è la competizione? Che campionato è? Adesso Ti ricordo Ti ricordo Che la Juve Che la Juve Comprava il miglior giocatore Del Napoli Il miglior giocatore Della Roma Tranquillamente Pagando la clausola Recissoria Senza Superliga Senza Superliga Sì ma non è Ho capito Ma ti rendi conto Che la dimensione È completamente diversa Se no non la farebbero La Superliga Io spero solo Che Ilario Io spero solo Che nella seconda mezz'ora Metti musica Perché Che ne facciamo a fare Della l'ora Che seconda mezz'ora È finita La traccia No Ilario Rispondimi Nella seconda mezz'ora Metti musica Che cosa ne parliamo a fare Oppure Fai monologo a Gelco Che sta tutto Oggi abbiamo capito Che Gelco è un tuttologo Allora Metti musica Perché Che la Lanna Che ne parliamo a fare Ma cosa Ne parliamo a fare Esatto Eh Quindi mettiamo musica Nella seconda mezz'ora Allora Hai capito Che mezz'ora È finita la trasmissione Abbiamo saltato tutto Questa è la trasmissione Questa è un luogo